All'inizio del XIX secolo, quindi dell'Ottocento, la Spagna e il Portogallo erano molto in difficoltà come stati. La guerra di successione spagnola aveva lasciato strasciche sull'impero spagnolo in Sud America, in particolar modo, e allo stesso tempo il Portogallo era sempre più debole, era uno stato piccolo, ormai la sua colonia principale, il Brasile, era molto più grande della madrepatria, però tutto sommato riuscivano a mantenere in piedi i loro imperi coloniali. Napoleone, diciamo, cambia le cose. Le campagne napoleoniche in Spagna e anche in Portogallo accelerarono tutto il processo di disgregazione di questi due imperi e oggi cominciamo a parlare dell'indipendenza del Brasile. Cominciamo, appunto. A causa del Trattato di Tordesillas della fine del Quattrocento, il Brasile era l'unica colonia portoghese in Sud America, infatti il Brasile era anche l'unico stato, e ancora oggi è l'unico stato sudamericano, a parlare portoghese invece che spagnolo. All'inizio dell'Ottocento il Brasile è la colonia più importante e più grande dell'impero portoghese, ma si trova anche ad ospitare la corte dell'imperatore portoghese, del re portoghese Giovanni, perché Napoleone aveva invaso il Portogallo, la corte portoghese era stata costretta a fuggire nella sua colonia più grande proprio per evitare di essere catturata. Durante questa fuga a Rio de Janeiro, che al tempo era la capitale del Brasile, oggi è Brasilia, la corte portoghese si riorganizza e ci sta per tanti anni, arrivando nel 1807 e andandosene particolarmente nel 1820. Quindi in questi 13 anni la corte portoghese si organizza, vengono assunti, vengono integrati in questa corte funzionari brasiliani, nativi brasiliani anche, per nativi brasiliani intendo coloni nati da portoghesi, non i nativi americani, assolutamente no. In poco tempo il Brasile diventa il centro di questo impero, tanto che il re portoghese decide di elevare questa colonia allo status di regno, paragonandolo proprio alla madre patria e creando un regno unito di Portogallo e Brasile. Questo atto viene emanato il 16 dicembre del 1815 e appunto così facendo si paragona il Brasile alla madre patria. Che cosa succede però nei cinque anni dopo? Nel 1820 a Lisbona scoppia una rivoluzione liberale. C'è da dire che il re portoghese e la corte portoghese non ritornarono a Lisbona neanche dopo che Napoleone venne sconfitto a Waterloo e con la restaurazione poi tutti gli stati invasi da Napoleone tornarono a un apparente equilibrio pre-campagne napoleoniche. Il re Giovanni rimase a Rio de Janeiro con tutta la corte e con l'erede al trono. Nel 1820 a Lisbona scoppia una rivoluzione liberale che costringe Giovanni a tornare in patria dopo 13 anni. Però prima di partire Giovanni nomina suo figlio Pietro come reggente del regno del Brasile in modo da non far tornare il Brasile a uno status di colonia ma come una delle due anime principali di questo regno unito di Portogallo e Brasile appunto. Questa cosa non va bene, non piace al Parlamento portoghese e al governo portoghese che iniziano a premere affinché Pietro possa rientrare come erede al trono della corona di Portogallo a Lisbona e soprattutto premono perché il Brasile perda il suo status di regno e torni ad essere una semplice colonia in modo da assopire anche eventuali tentativi indipendentisti. La notizia della posizione del Parlamento e del governo portoghese arrivano in poco tempo a Rio de Janeiro e Pietro non la prende bene. Pietro rimane fedele a suo padre Giovanni però decide di ribellarsi al Parlamento e quindi avvia fondamentalmente una guerra di indipendenza del Brasile. Lui si proclama imperatore del Brasile, dà l'avvio a una guerra cacciando dal Pernambuco per prima una delle province del Brasile, appunto il Pernambuco fu la prima provincia da cui le truppe portoghesi vengono cacciate, vengono rimandate in patria e da lì appunto si avvia una guerra di indipendenza che finirà sostanzialmente solo nel 1825 con il Trattato di Rio de Janeiro in cui il Portogallo riconosce ufficialmente il Brasile, l'indipendenza del Brasile, ne riconosce la sovranità, riconosce Pietro come imperatore del Brasile e quindi il Portogallo perde la sua più grande colonia, una metà del proprio regno unito. Pietro rimarrà appunto imperatore del Brasile, creerà una dinastia di braganza, quindi in perfetta continuità in realtà con la corona portoghese, fino poi alle altre rivoluzioni che seguiranno durante sia il XIX che il XX secolo tutta la... insomma che andranno a formare tutta la storia del Brasile indipendente. Bene, spero che il video vi abbia incuriosito e vi sia interessato, come al solito noi ci vediamo una prossima volta. Ciao a tutti!